Intervenire in maniera radicale per migliorare l'offerta formativa e strutturale delle scuole siciliane, a dirlo l'assessore regionale all'istruzione, Mariella Lobello, in visita a Gela. Abbiamo preparato un piano per quanto riguarda l'edilizia scolastica con interventi economici e finanziari che sono andati al di là di quelli naturali previsti dallo Stato. Stiamo facendo un'indagine rispetto alla sicurezza degli edifici, intanto predisponendo e chiedendo ai geni civili di farci sapere quali sono che ha la condizione di ogni scuola della nostra regione, perché vogliamo attraverso dei codici che le scuole hanno poter dire quali sono quelle al rischio sismico, quali sono quelle che hanno pericolosità per dove sono costruite, per come sono ubicate. Insomma, dapprima c'è bisogno, come sempre, di sapere come sono e poi cercare di capire quali interventi sono necessari.